Il quarto punto dell'ordine del giorno è l'approvazione modifica dell'astruttura del regolamento comunale per la disciplina dell'UVU. Sostanzialmente c'è una precisazione che si considera direttamente ad abitazione principale con una conseguente riduzione della velocità dell'unità immobiliare che è seduto a titolo di proprietario e soprattutto da disabili soggetti a tutela, curatore o amministratore di sostegno che spostano la residenza presso familiare entro il quarto grado, condizione in cui l'abitazione non risulta locata. È una precisazione che ci sembrava doverso fare verso... Qualificando queste situazioni a quella degli anziani possessori di abitazione che stanno in casa di posto, che era già prevista dalla lettera, quindi prevediamo che sia parificato questa situazione di un disabile grave perché ha bisogno di un'ordinitatore e che abita presso parenti per ragioni sottasposte. Osservazioni? Autore votazioni? Favorevoli?